La cripta del Duomo è l'unico ambiente della cattedrale rimasto integro. È un ambiente coevo alla costruzione del Duomo, dunque di epoca normanna. Inizialmente era ad ambiente unico, senza queste pareti divisorie. Vi sono delle volte a crociera che sono sostenute da 24 colonne di epoca greco-romana, con capitelli di diverso stile, un esempio di riutilizzo di materiali preesistenti. Nel 1680 fu realizzata la decorazione in stucco, ancora oggi visibile. In origine si accedeva alla cripta dall'ambiente sovrastante, cioè attraverso due scalinate ai lati dell'arco trionfale della cattedrale. Dopo il terremoto del 1908 furono realizzati i muraglioni in cemento armato, che divisero in tre gli ambienti. Dagli anni 70 in poi la cripta fu soggetta ad allagamento a causa di una falda acquifera in seguito all'ostruzione del torrente Taglialegni per opere di edilizia. Questo la rese inagibile per parecchio tempo. Soltanto nel 2007 furono ultimati i lavori di drenaggio. Grazie a tutti.